allora buongiorno ragazzi un po di tempo che non faccio video in generale ma è un periodo veramente veramente intenso sto cercando un attimo di riorganizzare le cose allora oggi sono partito con un nuovo cantiere che sarà una pilletta unifamiliare a due piani e volevo provare adesso non vi prometto niente ma ci proverò cerchiamo di fare questa cosa perché è interessante provare a portarvi un contenuto di video dall'inizio alla fine della costruzione di questa struttura partendo anche facendovi vedere magari anche qualcosa del lato della parte progettuale per poi andare in cantiere adesso stanno scavando per fare le fondazioni e quindi il cantiere appena iniziato ovviamente io cercherò di raccogliere i video man mano e poi farvi delle brevi puntate di vlog dove vi spiego quello che accade e come stiamo andando avanti questo è il primo video insomma introduttivo in cui volevo introdurvi un attimo questa cosa ci vediamo nei prossimi video mi raccomando cercate di seguirli tutti dall'inizio perché penso che sia una cosa che può essere utile sia perché già nell'ambito e anche ma soprattutto per voi studenti che magari vi state approcciando quindi non sapete bene effettivamente cosa succede veramente dal vivo e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao